Buongiorno a tutti. Nel definire lo statuto epistemologico della pedagogia abbiamo detto che la pedagogia è una scienza autonoma e distinta all'interno del panorama delle scienze dell'educazione e della formazione. Però abbiamo anche chiarito che tale autonomia che le rinviene dal fatto di avere un suo proprio autonomo oggetto, suoi propri linguaggi, suoi propri modelli anche di ricerca, non significa però che la pedagogia si chiuda in qualche modo al confronto con le altre scienze, in primis con le scienze immediatamente più vicine al sapere pedagogico, quindi mi riferisco per esempio alla psicologia, alla sociologia, all'antropologia, alla filosofia, giusto per citare quelle immediatamente più vicine. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che la pedagogia, pur essendo dotata di un proprio autonomo e distinto apparato epistemologico, teorico e prassico, che la rende appunto una scienza autonoma e distinta, pur essendo questo, tuttavia la pedagogia si configura come una scienza che costitutivamente si apre al confronto, al dialogo dialettico con le altre scienze. Questo perché? Perché la pedagogia, come abbiamo già detto, si occupa della formazione delle persone per l'intero corso della vita e nella pluralità dei contesti di vita. Allora si occupa di persone che sono ovviamente sociologicamente, psicologicamente, antropologicamente, culturalmente connotate e quindi è evidente, chiaro e normale che la pedagogia, dovendo costruire, contribuire a costruire un modello di formazione, deve conoscere dal punto di vista psicologico, sociologico, antropologico, le persone che sono quelle persone che nei differenti tempi della vita sono poi, come dire, i destinatari del processo formativo. E quindi, questo è importante specificarlo, cioè è importante specificare che autonomia e integrazioni e dialogo con le altre scienze non sono due dimensioni contrapposte fra di loro, ma sono, a nostro avviso, al contrario, due dimensioni che si integrano fra di loro. Per cui, per realizzare questo, la pedagogia ha dovuto nel corso, soprattutto nel corso del Novecento, ha dovuto in qualche modo, per attestarsi come scienza autonoma e distinta, in qualche modo liberarsi, come dire, da un rapporto di sudditanza che precedentemente aveva con le altre scienze, in primis con la filosofia. Quindi, a partire da questo progressivo processo, come dire, di emancipazione e quindi di individuazione della propria specifica identità rispetto a queste altre, rispetto alle altre scienze, la pedagogia, nel corso appunto dei decenni e attraverso una serie di studi, di ricerche, attraverso quindi elaborazioni teoriche, ma anche sperimentazioni, ha progressivamente, è stata progressivamente in grado, avvalendosi però proprio del rapporto con le altre scienze, ma senza viverlo come rapporto di sudditanza, ha saputo progressivamente emanciparsi esaltando quello che è lo specifico punto di vista della pedagogia. Una pedagogia che in tal modo viene fondata epistemologicamente proprio attraverso il rapporto con le altre scienze con le quali, io direi quasi costitutivamente, è chiamata a confrontarsi e a dialogare. Questo ci serve anche per individuare un'ulteriore caratteristica specifica della pedagogia, che è la pluralità. La pluralità è il contrassegno della pedagogia, quindi, come dire, molteplici sono le scienze con le quali la pedagogia sente la necessità di intrecciarsi per riformulare continuamente il proprio statuto teorico e il proprio ambito di intervento empirico. In particolare, la pedagogia, ovviamente, come dicevo prima, deve dialogare e confrontarsi con la psicologia, perché la psicologia ci dice come, dal punto di vista psicologico, si configura una persona nelle differenti età della propria vita, ma deve confrontarsi anche con la sociologia e con l'antropologia, che analizzano le coordinate culturali e sociali del contesto di appartenenza, senza dimenticare anche quelle altre scienze apparentemente più lontane, come la biologia, l'economia, l'informatica e così via.